Ma che macchina del tempo! Per fare un salto nel passato bastano un locale in piazza e un gruppo di artisti di talento. Ne ha dato prova il ristorante ideale Food & More di piazza 20 Settembre a Fano, grazie a una cena spettacolo che lunedì sera ha portato i commensali direttamente negli anni 50 di Grease. Ciuffi ribelli e brillantina, giubbotti di pelle e gonne a ruota hanno caratterizzato il primo capitolo del progetto Music Hall, una serata pensata da Stefano Mirisola e resa possibile dall'associazione Happy Days, un musical en plein air che ha intrattenuto e coinvolto le persone sedute a tavola. Music Hall, questa idea di fare una cena spettacolo diversa dal solito praticamente, i veri protagonisti dello show saranno proprio i commensali che saranno partecipi di queste coreografie, di queste recite fatte dalla compagnia Happy Days sotto la regia di Marco Florio che animeranno questa serata in maniera elettrizzante. Sì, un tuffo nel passato, è un musical che hanno già acquisito i ragazzi dell'associazione perché circa 13 anni fa lo hanno messo in scena al Teatro Pro di Teama, quindi è un ripescare, Grease, serviva, mi hanno fatto una richiesta di un musical fresco per fine estate e mi è venuto in mente Grease. L'iniziativa ha avuto successo, tanto che un imprenditore di un comune limitrofo ha già contattato Mirisola con l'intenzione di replicarla. Gran parte del merito è dei circa 15 attori e attrici tra i 18 e 45 anni che hanno preso parte allo spettacolo insieme al corpo di ballo della scuola Dance Academy Studio e ai B-Boys in Action. Beh, fare la regia di questo spettacolo è stato molto piacevole, abbastanza semplice, grazie alla collaborazione di Caterina Maggini e Chiara Furlani, la coreografa, che è riuscita a far ballare ragazzi che non sono ballerini e che spesso molti di loro per la prima volta si trovano qui a recitare, a ballare e a divertirsi tutti quanti insieme. Abbiamo lavorato per un mese e mezzo, quindi in tempi molto molto stretti, velocemente, facendo tre, quattro, cinque prove alla settimana per arrivare qui e fare questo evento straordinario organizzato dal ristorante L'Ideale. Una serata all'insegna della spensieratezza dunque, ma anche un omaggio alla grande protagonista di Gris, Olivia Newton-John, scomparsa lo scorso 8 agosto. Certamente il musical di questa sera sarà un omaggio all'immensa Olivia, quindi approfitteremo anche per fare un tributo all'attrice di Gris per eccellenza. Ci ha lasciato pochi giorni fa e sarà qui insieme a noi a fare questo bellissimo evento, questo bellissimo spettacolo. Ne è uscita una festa travolgente fatta di sentimenti, coreografie e canzoni che hanno fatto la storia, ma anche di buon cibo. Tra le collaborazioni, oltre il patrocino del comune di Fano, perché comunque cerchiamo di ravvivare anche la piazza, perché è uno spettacolo che ha la possibilità di essere visto da tutti praticamente, si autofinanzia con il prezzo della cena, abbiamo degli sponsor importanti come polo ristorazione, ma soprattutto la cena verrà preparata dall'associazione professionale cuochi italiani, dall'Apci, dallo chef Antonio Bedini e dal suo staff, che utilizzeranno per l'occasione la cucina del ristorante ideale per preparare dei piatti sfiziosi. Ovviamente l'amministrazione lo sostiene perché creare questi momenti di accoglienza nella città, sia che arrivino ad associazioni, sia che arrivino ad attività con le quali collaboriamo costantemente, è per noi importante perché significa dinamicità, vitalità ad una città come Fano.